Ciao ragazzi, bentornati a Natural Echo. Oggi andiamo ad approfondire quella che è la playlist di Parlando di Libri, portando un libro che a me è piaciuto molto e che ho letto parecchio tempo fa, che è Il Genio Non Esiste e a volte è un idiota, come potete vedere anche qui sullo schermo. Io ce l'ho comunque qui. Allora, di che cosa si tratta? È un libro di satira, in cui il nostro Barbascura praticamente riporta la vita di personaggi di spicco, diciamo dal punto di vista storico, per via delle loro scoperte, come per esempio Newton e Darwin. E quella è la differenza rispetto a un normale libro che parla di questi personaggi, casomai libro accademico, è che non parla soltanto di quelle che sono state le loro scoperte, e tra l'altro non ne parla come si fa di solito, talvolta pure decorandoli un po', come succede solitamente. Quindi ne parla proprio mettendo in risalto, oltre a mettendoli un po' ridicolo, no, è un libro di satira, mettendo in risalto quella che è la loro umanità. Ma non nel senso di, tipo, empatia, ma umanità nel senso di farli vedere come esseri umani, con le loro idiosincrasie e le loro assurdità. L'esempio che mi rimane più impresso è quello appunto di Newton, per esempio, che lui lo scrive come veramente un personaggio allucinato. Comunque sia, qual è il punto fondamentale di questo libro, secondo me? Il concetto che Vascola ripete sempre, benissimo, anche al di fuori dei suoi scritti, nei suoi video, per esempio, in altri discorsi che fa in giro durante i suoi tour, per esempio. E cioè che queste persone, che sono state catalogate come geni, in realtà non erano nient'altro che persone, diciamo, tra virgolette qualunque, non esattamente però, per farla breve, che facevano le loro cose e poi hanno avuto il colpo di fortuna, no, che gli ha fatti passare la storia. Ora poi bisognerebbe vedere quanto effettivamente hanno goduto di questo colpo di fortuna, se durante la loro vita o dopo che sono morti, post-morte, ma allora quando sei già bello che è morto, la fortuna, insomma, ha il tempo che trova, diciamo. E questo, secondo me, è un discorso fondamentale. È un discorso semplicemente del fare le cose per farne accadere altre. Ora, non è un discorso che andrebbe bene per chiunque, cioè se si tratta di, se per esempio tu sei una persona che ha chiaro il suo percorso di vita, sta raggiungendo degli obiettivi importanti o sa come raggiungerli, si trova perfettamente ingareggiata, questo non è un discorso per te, ma è più che altro un discorso per chi nella vita si trova in qualche modo bloccato o indietro. Insomma, le persone che sono cadute si devono rialzare, per così dire. Perché è un discorso importante. Perché semplicemente è un discorso che ci porta ad abbandonare quella che è la nostra zona di blocco, non di comfort, di blocco. Ovvero semplicemente che quando ci troviamo bloccati, quello che dovremmo fare è semplicemente cercare di trovare qualcosa da fare, anche soltanto per uscire da quella zona di blocco. Che sia veramente qualsiasi cosa, il trovare un lavoro, tra virgolette, standard, come per esempio andare a lavorare in un negozio, o per quanto possibile fare volontariato, o fare dei corsi, formarsi in generale. Perché fare questo? Ci può aprire le porte verso nostre possibilità. Non parlo di la scoperta della teoria dell'evoluzione e roba del genere, o fare Mark Zuckerberg, ma anche soltanto lo scoprire è un percorso differente rispetto a quelli che si aveva già esaminato. Tu potresti scoprire che, oltre al settore che tu avevi scelto di formazione, per esempio universitaria, che poi hai scoperto essere, non essere molto una buona scelta per quanto ti guarda poi la vita dopo l'università, il tuo padre lavoro, magari potresti scoprire che ti piace un altro settore che è più facilmente raggiungibile per come tu sei formato come persona. un mestiere, o anche soltanto un passatempo, poi non dobbiamo parlare soltanto di lavoro, che senti più affine a te, e che magari riesci a raggiungere più facilmente, perlomeno per come sei costituito tu. Ma anche se non fosse così, anche soltanto star facendo qualcosa di diverso rispetto a rimanere bloccato, a rimuginarelo per finché in avere ansia, è comunque un passo avanti, che ti ha portato a liberarti, perlomeno temporaneamente, il punto è continuare a fare le cose, non nel principio della massima produttività assoluta, ma semplicemente fare qualcosa che ti allontani da quel blocco, e da quel rimuginio. E ora sì, c'è l'esempio che mi viene più calzante, e perlomeno che mi ricordo meglio, e che è anche molto vicino a me, non soltanto per la questione proprio settoriale, perché comunque vengono dal percorso di scienze biologiche, quindi ambiente, evoluzione, e quello di Darwin, che qui viene descritto. Perché lui è sempre proprio calzante, non soltanto perché nella sua storia, come viene presentata, vengono mostrati tutti quanti i fallimenti di questo personaggio, cioè praticamente lui è passato da un'università all'altra, un corso all'altro, fallendo continuamente, e poi quello che ha fatto è stato semplicemente prendere tutto e viaggiare, cioè praticamente ci mostrano il percorso dell'eroe, diciamo, e che lui semplicemente si è trovato in un momento di blocco, un momento di completo fallimento, appreso e se ne è andato a fare questo viaggio. Ora ovviamente non sarebbero riusciti a fare questo viaggio senza appartenere a una famiglia benestante, che ponete i soldi per poterlo fare, quindi anche quello è una fortuna non da poco, no? Ma comunque il concetto alla base non cambia, cioè il fare le cose per farne accadere altre. E semplicemente questo è quello che vi volevo dire riguardo a questo libro, era più che altro un pretesto per parlare di questa cosa qui, che sinceramente a me sta molto a cuore, anche per il via del momento proprio della mia vita in cui mi ritrovo. E conclusioni su questo libro. Per me è un libro assoluto, cioè lo trovo un bel libro, mi ha stappato qualche risata di tanto in tanto. L'ho trovato molto gradevole, e lo consiglierei praticamente a chiunque, salvo a chi, vuole mantenere un certo decoro nei confronti di questi personaggi qui descritti, ma per il resto sia di persone che hanno già chiaro in mente questo concetto del fare per far accadere le cose, sia che già conoscono bene la vita di questi personaggi, io lo consiglierei comunque perché magari vuoi vedere la raccontata in un modo un po' diverso rispetto a come sei abituato, o perché vuoi vedere questo concetto applicato a personaggi storici. Detto questo io comunque vi ringrazio per l'attenzione, porterò altri video in futuro. Questo qui comunque non avevo molto da dire riguardo al contenuto in sé, anche perché è un libro che ho letto molto tempo fa, per cui non posso dire ricordarmi perfettamente tutto quanto, però quello a cui mi ha portato a pensare è una cosa che volevo condividere. Detto questo ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.